Benvenuti in questo nuovo video di Monosporio 07, siamo qui per parlare di MotoGP ragazzi di recensire, la gata svoltasi domenica mattina dove ci siamo smettati tutti presto per vedere questa MotoGP si è vissuto praticamente alla stessa identica situazione dell'anno scorso l'avevo preannunciato nel post gara del primo GP e non era sinceramente neanche troppo difficile prevederlo due vincitori diversi in due gare, due poleman diversi in due gare ma soprattutto sei piloti diversi saliti su un podio in due gare quindi questo la dice lunga sul fatto che saranno in mondiale forse più simile al 2020 che al 2021 perché nel 2021 ancora ancora un gruppo in testa c'è stato perché ogni gara più o meno erano i soliti a giocarsela, erano in dieci ma erano i soliti ovvero Marquez, Martin, Zarco, Bagnaia, Miller, se andava bene Miller perché non è stato molto continuo Aleix, Spargaro, Mir, Quartararo non so se l'ho detto e basta più o meno questi erano gli otto che solitamente erano in testa Aleix e Spargaro non mi ricordo se l'ho detto però più o meno questi erano quelli che si combattevano poi Binder è arrivato sesto perché è stato più continuo e quello che si è ritirato di meno Marquez e Martin sono stati condizionati da un fortunio quindi questo è però insomma ragazzi più o meno il gruppo di testa era quello costituito da solitamente 7-8 piloti a volte si aggregava Rins, qualche gara si è aggregato Bastianini qualche gara si è aggregato, boh, non lo so, qualche spessato Vignales quando andava forte con la Yamama con l'Aprilia manco mezzavolta una volta sola si è aggregato Morbidelli e poi il nulla cosmico totale quindi insomma ragazzi è un mondiale sull'orlo dello scorso anno l'avevo preannunciato al primo video ma adesso andiamo ad analizzare punto per punto il primo dei quattro punti che andiamo a parlare in questo video riguarda la KTM parliamo sicuramente di Oliveira ma più della KTM in generale che si ritrova lì a combattere il titolo mondiale in questo momento con tutti e due i piloti perché Oliveira e Binder hanno più o meno gli stessi punti Binder non vorrei errare ne ha 26 mentre Oliveira ne ha 25 perché nella prima si è ritirato e a proposito di Oliveira adesso sul podio quando ti rivediamo l'anno prossimo ti vediamo vincere un'altra gara e poi le altre fai fuori dalla top 10 perché l'anno scorso Oliveira ha iniziato il mondiale nel peggioro dei modi con due ritiri e quattro piazzamenti fuori dalla top 10 nelle prime sei gare l'anno scorso o comunque se non è così una cosa del genere poi fa quattro gare di fila secondo primo secondo quinto quindi mettendosi addirittura in lotta per il mondiale perché con questi quattro risultati comunque si era portato a una cosa come a meno 30 meno 35 dal primo posto che comunque dopo dieci gare erano tanti ma quantomeno poteva vedere non troppo distante la vetta dopo questi quattro piazzamenti che erano andati veramente veramente forte dal suo punto di vista è sparito le successive dieci gare ne ha fatto solamente una in top 10 il resto è sparito solamente i ritiri e piazzamenti fuori dalla top 10 o addirittura fuori dai punti completamente sparito e in questa MotoGP ma così come nel mondo e lo fa capire anche il non rinnovo di Dybala la costanza per me è più della velocità perché tra Rinsa e Mir per me Rinsa è più veloce tra Vindere e Oliveira per me Oliveira è molto più veloce e allora cos'è che fa la differenza? fa differenza la continuità e anche il fatto permettetemi di dire che i piloti come dice Talking Helmet al giorno d'oggi sono diventati maggiordomi delle gomme perché non è possibile che un Pedrosa che non guidava da tre anni arrivi in MotoGP così si risucchia nel gruppo centrale e fa decimo come? in che modo? in che senso? come decimo? è figa sta cosa delle wildcard anche se potrebbe compromettere il mondiale ma per me la cosa che compromette di più è il sistema di punteggio perché io sono convinto che è la cosa migliore non so perché tra il primo e il secondo stanno 5 punti di differenza nel caso della MotoGP 7 punti di differenza nel caso della Formula 1 mentre tra il nono e il decimo c'è un punto di differenza ma siete stronze allora c'è quindi per me quanti sono i piloti? 20 il ventesimo a meno che se sia ritirato prendi un punto e il primo prende 20 punti il secondo 19 il terzo 18 e così via per me con questa è giusto apri e chiudo parentesi KTM che si ritrova con due piloti a lottare e ora sarà interessante vedere chi arriverà davanti fra i due per ora Binder è davanti se non mi sbaglio di 1 o 2 punti perché la prima gara è arrivata secondo quindi ne ha presi 20 questa gara è arrivata ottavo se non mi sbaglio quindi ne ha presi teoricamente altri 8 quindi dovrebbe essere 28 Binder che tra l'altro ha meno 2 da Bastianini dove incredibilmente si ritrova primo per il mondiale non so quanto possa battagliare con la moto che ha perché in ordine ha la terza moto Ducati ragazzi peraltro dal 2021 perché di regola le Ducati Prama che le Ducati Ufficiale dovrebbero essere più veloci di Bastianini che in questo momento si ritrova incredibilmente con non vorrei errare 17 punti in più di Miller 30 punti più di Martin 29 punti più di Bagnaglia e rispetto a Zarco che è la prima credo delle Ducati tra Ducati Prama ma che Ducati Ufficiali rispetto a Zarco ne ha di più Zarco ha fatto 16 punti ieri e ne ha fatti la prima gara è arrivata se non mi sbaglio ottavo quindi ne ha fatti altri 9 quindi insomma più o meno Zarco è anche in qualche modo in lotta per il mondiale però dovrebbe essere a più 6 in questo momento su Zarco che non mi aspettavo così competitivo quindi a questo punto ragazzi Bastianini può veramente sperare per il mondiale ma quanto a KTM la prima moto sembra buona perché sia Binder e Olivera sono riusciti a stare in lotta per la vittoria ma mi fa storcere il naso la moto dei due ruchi la seconda moto della KTM che dovrebbe chiamarsi Team Tech 3 questo team ragazzi boh Gardiner e Fernandez faranno una fatica veramente enorme ad arrivare a punti in qualsiasi condizione pioggia bagnata asciutto boh e per ora stanno facendo meglio Petrucce e Lecuona dell'anno scorso rispetto a loro due devo capire se alla moto sono loro perché un Derring Binder anche tramite la competitività della Yamaha che ora ne parleremo è andato veramente veramente forte prende sicuramente la Yamaha che torna al top con Morbidelli Morbidelli che ha avuto un ottimo passo perché non è stato solo Quartararo che è arrivato secondo facendo una bella rimonta perché comunque Quartararo partiva in pole poi ha fatto la rimonta sull'asciutto e sappiamo che Quartararo non è molto bravo sul bagnato però comunque c'era un abisso ieri tra i primi 7 e tutti gli altri in realtà i primi 7 sarebbero potuti essere i primi 9 con Martin e Marquez solo che Martin e Marquez non ci sono stati non c'è stato per questo neanche Bagnaia e neanche Aleish ma comunque c'è stato un gruppo di testa che girava più o meno su tempi simili a parte Oliveira che volava però il gruppo di testa girava su tempi molto molto simili e Morbidelli era in questo gruppo di testa quindi nonostante sia stato l'ultimo di questo gruppo di testa fa comunque piacere che abbia un ottimo passo farà un anno veramente male secondo me Morbidelli però il fatto che aveva fatto un ottimo passo in questa gara ci sta comunque a raccolto dei punti importanti un undicesimo un settimo posto non è proprio il migliore degli inizi però comunque se comunque continuo su questa costanza può arrivare comunque nella top 10 finale del mondiale il che potrebbe comunque alla fine essere un buon risultato tramite la competitività che c'è quest'oggi quarta raro in lotta comunque per il mondiale perché se ci pensiamo a 20 se non mi sbaglio 26 punti comunque si trova a meno 4 dal primo posto di Bastianini che ripeto non credo sia in lotta per il mondiale perché se si trova primo non discuto le qualità di Bastianini ma una moto del 2021 tra l'altro è la terza Ducati quella del suo team se non la quarta perché il team VR46 ce l'ha le moto nuove quindi insomma ha un'ottima guidabilità questa Yamaha e te ne accorgi dal fatto che anche Dovizioso e Derring Binders sono stati competitivi peccato per Dovizioso che è caduto però ha fatto veramente bene anche Derring Binders mi piace ugualmente sorpreso non mi aspettavo una prestazione del genere non da parte del punto di vista della moto ma dal punto di vista di Derring stesso che magari non lo consideri pronto uno che ha come miglior risultato ha il settimo ottavo posto finale l'anno scorso in Moto3 fa subito un salto in MotoGP con la moto che forse potrebbe essere più scarsa però comunque sta facendo bene ottima guidabilità questa Yamaha può essere tornata e sono comunque in lotta per il mondiale mi dispiace sicuramente per la Honda non ho molto da dire quello di Marquez sembra un calvario e per il terzone consecutivo si ritrova a saltare delle gare o comunque dove non è al 100% mi dispiace perché avrebbe sicuramente potuto dire la sua l'anno scorso stava per vincere due gare così ma in entrambe l'occasione è caduto chissà che non sarà tutto anche questa volta non lo so è tornato il Marquez aggressivo però deve capire che non è più quello di un tempo dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale non è più la moto sua quindi deve capire che in alcune occasioni deve rischiare di meno soprattutto in un warm up poi anche se la egg side difficilmente è prevedibile però ragazzi Marquez quest'anno deve capire come ha fatto in Qatar che deve ottenere quei risultati lì costanti le vittorie i podi arriveranno l'anno scorso ragazzi Marquez ha fatto 3 vittorie 4 podi si è combattuto la vittoria in ben 7 gran premi che ci ha dato no Marquez si è combattuto la vittoria per 7 gran premi ovvero le 3 vittorie quella dove è arrivato secondo per Bagnaia o il fatto lì e altre 3 dove poi alla fine è caduto ovvero in vediamo se mi vado a ricordare bene Francia Francia Austria e l'altra che non mi ricordo però Marquez l'anno scorso ha combattuto la vittoria in 7 occasioni ha saltato 4 gare altre 3 è caduto però Marquez comunque è un dato di fatto l'anno scorso ha già combattuto molte volte per la vittoria deve capire che quest'anno deve essere più costante nei risultati per provare a combattersi il mondiale perché la prima gara gli era andata bene perché teoricamente era virtualmente primo Marquez perché i 4 davanti a lui ovvero Aleix Paul Spargaro Binder e Bastianini fai fatica a credere che questi 4 possano vincere il mondiale i capitani possano vincere il mondiale ovvero Marquez dal mio motrivista Marquez Mir Bagnaia Quartararo e rispetto agli altri 3 Marquez aveva già punti di vantaggio perché Marquez prima gara fa quinto Quartararo nono Bagnaia si ritira e Mir sesto o settimo quindi già hai perso questo piccolo vantaggio che avevi ora devi cercare di recuperare perché non sei lontanissimo dalla vetta sei a 19 punti da Bastianini e quando torna deve tornare bene perché comunque non si sa neanche se tornerà al 100% spero per lui di sì per avere un mondiale più combattuto anche perché Paul Spargaro ha dimostrato che non sempre riesce a combattersi la vittoria anche in determinate condizioni e con una pista diversa Ducati la Ducati ragazzi Zarco e Miller ok però ogni gara hanno qualche pilota diversa che va forte la scorsa gara c'era Bagnaia in rimonta insieme a Martin e c'era Bastianini a ridosso dalle prime posizioni a questa gara invece tocca a Zarco e Miller nelle prime posizioni Bagnaia nelle retrovie sono troppo discontinui con tutte le moto che hanno quindi insomma devono trovare un capitano che per me è Bagnaia che però finora ha fatto un punto in due gran premi che è una cosa inammissibile ha già buttato punti veramente importanti non ho capito il motivo del suo calo perché ragazzi Miller comunque ha fatto molto meglio di lui a livello di stessa moto quindi boh Martin si conferma un pilota che cade sempre anche se nella prima gara non era colpa sua però boh ragazzi questo Ducati deve trovare una soluzione perché tutta questa discontinuità fa bene sicuramente al mondiale costruttori ma fa male al mondiale piloti dove se non hai un capitano in questo momento il primo pilota Ducati e Bastianini che è in testa al mondiale ok però non so quanto possa reggere in quella posizione fin quando non si rialzano Quartararo Mir e Marquez che secondo me sono i tre favoriti in questo momento assoluti per il mondiale detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se ti è piaciuto rimanete a lasciare mi piace se non trarvi un dislike commento se sei d'accordo o disaccordo con me se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale in descrizione il link prossimo su instagram domani spavizzone è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi